Non sapevo quasi niente di questo bisnonno. Così ho cominciato una ricerca storica che mi ha molto appassionato e mi ha fatto scoprire cose incredibili sul tempo in cui lui ho vissuto, in particolare sugli inizi del Novecento. E' venuto fuori questo Doc Live Show, LB, il bisnonno dell'umanitaria. In questa conferenza multimediale racconterò chi era Lino Burlini. Non voglio spoilerare ma parleremo soprattutto della Casa degli Emigranti, una esperienza di accoglienza di successo che la società umanitaria fece all'inizio del secolo scorso. Direi che un aspetto tutto nuovo dell'emigrazione mi sia qui manifestato, l'aspetto interiore. La storia del mio bisnonno, quella che ho scoperto, è una storia quasi normale ma che incrocia quella di grandi personaggi, personaggi che forse sono in questo momento un po' dimenticati, le cui battaglie sono di estrema attualità. Quindi parleremo della lotta per i diritti, per i diritti dei lavoratori, per i diritti delle donne, dei fanciulli come si diceva allora. Non sono una storica, sono una sceneggiatrice ma con questa mia conferenza voglio dimostrarvi che la ricerca storica può essere intrigante come una serie tv.